Ma cominciò a fare i discorsi a sani aumentano trafini ai tubi un trafini ai bummoli bummoli non diventano più insomma, ma girare, ma votare, ma girare fino a la metà mezzanassata E' certo, ma se tu sei sempre venuto cristiano perciò fai un travaglio e mi hanno dovuto far pagare finiamo la la, per piacere volevo vedere a te, volevo vedere a mia via vedere tu e' da me che erano cristiana, che bene è nascita precisi i santini muramura la fotografia do marito l'orso a cento stanza, un giangalò tanto le parevamo già, le parevamo la verità e' così dannoso so che tocchi tutti i suoi ma pare che ci avessi tutti uno nelle mani perchè se tu scordasi quando ti inizi a lavorare da sotto o benzinare la banca d'italia come si puo fare, va perciò una macchina a benzina c'è va a metà nafta che poi le bacine di maria si sentero via da sotto a biberria non ne capivo per fermare ogni volta che mi capita una cosa tu mi ricordare che sei fatto da benzinare o? niente, se tu scordasi c'era una bianca io ero cristiano che non sciviva e mi diceva che con la macchina ci faceva ogni giorno a chi ne scende ve la giugno c'è allora pensavo questo sicuramente era una macchina a dietro che faccio che i cristiani i grani li mettano da così? troppo scienziato, se tu sei troppo scienziato ho voglio capire quando si può fare cosa di te che c'ha tu mi cominciavo a fare capi buono, buono più per favore buono più che buono più? che buono più? un giorno no, ah! un giorno no a viso faccia la scuola la tia finisci per favore non vedi che la faccio una buona stata Per chi un po' posteggiatura? Sai che puoi fare? Ti metti già sotto il forse ponte Ma ogni macchina è capace, vuoi fermare? Ma fai che andare? Meno io tu, meno lì No, no, che poi faccio come finisci Che poi mi fanno Che tocca, che tocca stai sul posteggio Vattene prima che chiamo il vigile Poi arrivo il vigile E fai tutti i camionetti Sì, vabbè, ma che fai stare a raccontare? Ma se non c'è un manco di tutti i vigili Ma chi c'è, chi c'è? Ma chi va a cercare più forza? Perchè non va che arriva una torre? Che attacca il periodo delle bottiglie ora Sì, c'è quello che dice Mi fai accacchiano i scimi rafatali Per domigliare la cascitezza Ma non c'è la cascata Certo, arrivare qualcuno Ora che ha bisogno di una torre Vattene a prendere la pensione Sono andato a Cristiana Torre Chissà c'è ancora com'è che accambia Con questo desanorato Ma io manco saccio Non lo faccio come c'è ancora Da Santa Cristiana Sa che affare? Ci sono le vigne vacanti Perchè non ne va venni Sì, venni di meare Drabbonare me l'opera Cioè venni di meare C'è tutto il schieno Veramente un po' di abbonare me l'opera Un giassumigliente Manco un bilo che di capire E' un'eserciata Ti è un'eserciata In un po' di abbonare Ma veramente Sto padre ti fa fare Entra un momento da una agnosia Che sai com'è che fare Com'è che faici a fare un Cristiano con Mattia Travaglio non è che sono nuovo Che sono nuovo Il legnole no Tu domani mattina te so se e te la cerco travaglio domani mattino domani mattino domenica è finito il domenica fa riposare si però signor io il resto della settimana travaglio la via nella carica mattia certo poi io parlo proprio con tia che travaglio fino a domenica ma se tu vieni la domenica aggiungendo io quel pannaio e tu vieni la pizia e se ne vanno le tue scappano vieni la mia scappano da domenica assaggiare la sette servire quando i turisti hanno chiamato un capo come la paturra e s'hanno fatto tutto il bello giro del tempo e non hanno voluto scendere i chioli io ho ricevuto complimenti di cristiani a tutte le parti del mondo sbergetani americani giapponesi cinese rafalaisi e chi più ne ha più ne mette non parlare e parlare a te può lamentare e te la mette non mi ha capito le cose tutto l'aglio fino a domenica e adesso la settimana chi è che fa fa ma che ti pare che le cose me le metto quando i turisti arrivano vogliono sapere perché piccoli che qui vince il tempo e qua non le dicono poi per quale cos'è perché non sapere che il giocante è stinnecchiato o non è stinnecchiato tu a sapere che io ne sono ignorante con la zia io la settimana la passo è stato un gato e le libra un gato e le libra non c'è qui che piccio però carica 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 carica